Ciao a tutti sono abcdfgatto Allora Iniziamo così So che Può sembrare un nome abbastanza schifoso Però io me lo tengo Perché all'inizio l'ho preso così E poi è più o meno diventato un marchio di fabbrica Per me quindi Mi piace questo nome Diciamo così Poi Questa è la prima cosa Poi come potete capire dal titolo Che metterò nel video Questo è un video che tratta di Spore Uno dei giochi più stupendi Che io abbia mai visto Personalmente Nonostante non sia poi Come posso dire molto Cioè ci sono persone A cui non possa piacere E' un gioco stupendo E dà possibilità praticamente infinite Di creazione Quindi lascia proprio spazio All'immagine Come si può dire Diciamo che potete fare La maggior parte delle cose che volete Allora Non è La prima volta che Cerco di fare un video di Spore Ora scusate Sto postando il timer Ok Perché Ho già provato a fare Altri video Solo che mi sono venuti male E poi soprattutto Un video mi è venuto Di un'ora E vedere un video Di un'ora E' un po' un problema Quindi ho deciso Di dividere In video di 15-20 minuti Tutto il let's play Allora Ho deciso di fare Questo let's play In modo che sia Sia un let's play Cioè Un modo per divertirsi E vedere un po' Com'è il gioco Sia per Imparare Dei trucchi Che sono Utili Se si fa Se si gioca in modalità Normale O facile E sono Molto utili Quasi indispensabili Se si gioca in modalità Difficile Cioè Serviranno davvero molto A Accorciare Il tempo E soprattutto La difficoltà del gioco Se si gioca difficile Infatti Io E' già tanto Come potete vedere Da tutti questi mondi Perché i mondi Tratteggiati Sono quelli In cui Si è Già giocato I mondi Già Partiti salvate Diciamo Il mondo Questo qui E' quello Con le frecette Che girano E' quello In cui si è giocato L'ultima volta E i mondi Che sono gialli Sono quelli Ancora da iniziare Quindi inizieremo Da uno di questi Ecco Io Appunto Come potete vedere Già tanto Che gioco A questo gioco Sono arrivato Anche a abbastanza Fasi E per questo Per fare Una cosa Diciamo Equa E non far Durare Cioè Diciamo Un video Un po' più appassionante Ho deciso Di farlo In modalità Difficile E Penso che sia Penso che Cioè Se Se si fanno Le cose Che farò Si possa fare Comunque Un Gioco Più Diciamo Più scorrevole Più Più facile Da fare E quindi Anche divertirsi Di più Avere più tempo Anche per Per Come Si dice Solitamente Cazzeggiare Col Col Gioco Comunque Via Il primo video Diciamo che È già Cioè Sto occupando Abbastanza Un bel po' di tempo Di spiegazioni Ora Non so se si è sentito Un rumore di Telefonino Si può chiamare Telefonino Questo Ma Ho messo il timer E volevo vedere Quanto era Ok Allora sto finendo Già Un bel po' di tempo Quindi Direi di Iniziare Per il primo video Farò probabilmente Poco appunto Per il tempo Allora Vediamo La prima cosa Da fare È andare In uno di questi Mondi Che vi ho detto Che sono Quelli nuovi Abbiamo a disposizione Questo Questo qua giù Abbiamo a disposizione Questi due Questo E questo E questi tre Probabilmente Partirò Da uno Da questi tre Probabilmente Da questo Perché è abbastanza Lontano Degli altri Mondi È la cosa Che mi importa Di più Diciamo Si perché Non voglio Fare i mondi Troppo vicini Per evitare Di dover Durante Le fasi Successive Incontrarmi Comunque Allora Scegliamo Questo mondo Allora Ecco Scegli una fase Allora Una cosa importante Di Spore È che Spore È un gioco Bello Che a me è piaciuto Anche Soprattutto Perché Si può Decidere il destino Di un'intera specie Cioè Si parte Da un certo punto E si finisce In un altro Qui potete Vi fa partire Da ogni punto In cui volete Ci sono cinque fasi Potete partire Da qualsiasi Delle cinque fasi Ma Io per fare Un let's play Totale E soprattutto Secondo me Anche Più bello Partirei subito Dall'inizio Allora Per iniziare Cioè L'inizio Si ha nella fase cellula In cui praticamente Si va Nel brodo primordiale Ora Se volete Potete anche leggere La descrizione Ma praticamente È Siete proprio Una cellula Partite proprio Dall'inizio Inizio Inizio Della Della vita Di questa specie Per Passare A altre Fasi Come ho detto Queste Le cinque fasi Allora Noi Scegliamo la fase Quindi Scegliamo la fase cellula Allora Adesso Verrà richiesto Se essere Erbivori O carnivori Allora Se volete Un let's play Più facile Anche per iniziare Vi consiglio Erbivoro Perché Diciamo Avrete meno Punti di attacco Però Oltre a avere Più punti Di Amichevolezza Diciamo così Sarà anche Più facile Trovare cibo Perché tipo Nella prossima fase Nella fase successiva In questa fase Troveremo anche Cibo A giro In qualsiasi Delle due cose Siamo Nella prossima Però Troveremo Cibo Da tutte le parti Siamo Erbivori Invece Carnivori Dovremmo attaccare Altre Creature E quindi Sarà più difficile Dovremmo trovare Le creature Da attaccare E uccidere E Sarà un po' Complicato Comunque Io Andrei di più Sul carnivoro Si può Essere anche Onnivori Però Si può essere Nella fase Cellula Si può essere Tutte e tre Le cose Senza Senza Diventare Senza diventarlo Nelle altre Però Diciamo Che siccome Si può Spore La cosa Importante Che si può Modificare Proprio a proprio Piacimento La creatura Che si fa Ecco Nella fase Cervola Potremo cambiare Le bocche Che ci saranno Quella carnivora Quella erbivora E quella Nonnivora Quindi Potremo mangiare Qualsiasi Cosa ci pare Cioè Vedendo la bocca Che ci si mette Però Nelle fasi Successive Verrà determinato Da quanto Mangeremo Cosa In queste fasi Se mangeremo Metà e metà Ci darà Più o meno Più o meno Metà e metà Ci darà Diventeremo Ornivori Se mangeremo Più carne Diventeremo Carnivori Se mangeremo Più Vegetali Diventeremo Erbivori Io Penso Che diventerò Carnivoro Perché Sono più abituato Ecco Vi darà Una creatura Subito così Non la potrete Modificare A me non piace Quasi per nulla Stavi Però Poi si potrà Modificare Livello Difficile Come ho detto Sarà un po' Difficile anche per me Allora Diamo un nome Alla specie Il nome Alla specie Si può dare Cliccando qui Però verranno Nomi a caso E' il pianeta Scusate E' non la specie Ora faccio casino Il pianeta Il vostro pianeta O se no Basterà cancellare E mettere un nome Ora proviamo Mettere un nome Mettiamo Scusate Non so proprio Che nome Mettere Mettiamo uno Che Avevo intenzione Di mettere Vediamo se l'ho scritto bene Sì Perfetto No Full Core Ok Ho scritto un casino Vorrei scrivere Full cross Core Full cross Core Vai perfetto Avanti Ok Allora Iniziamo Appunto Il last play Non ci resta già tanto tempo Mi sa Mi sa che Ho quasi consumato metà Del last play A parlare Si Però lo sapevo già E allora Inizia così La nostra avventura Che con Come potete vedere Un meteorite Che si schianta Sul nostro pianeta Il pianeta che abbiamo scelto In precedenza Ora Come mai Quest'immagine Ora potete vedere Che quando il meteorite Si schianta Diciamo Va in mille pezzi Ecco Questi pezzi Contengono già vita E In uno di questi frammenti Quello che Questo qui Ci siamo noi Che siamo rinchiusi E affrontiamo E affronteremo Un viaggio Per diventare All'inizio La specie Più popolosa Eccetera Ora verranno date Delle indicazioni Intanto Ok Si Si Allora Iniziamo Allora In basso Scusate Tutti questi Allora In basso Potete trovare Quattro caselle Allora Allora Devo smaltere Allora Prima è la mia collezione Che saranno le parti Che potete trovare Ma per ora Non ce ne frega Quasi nulla Questo qua Invece è Sporopedia Sporopedia Diciamo L'insieme Di tutte Le creazioni Che sono state fatte All'inizio Troverete solo Sul vostro pianeta Poi ci sono Le mie creazioni Quelle che ho fatto In totale Cioè Proprio quelle che fatte io Poi i miei contenuti Vabbè Amici Super Sporrevisioni Eccetera Ora Sì Vabbè Ne chiudiamo Devo stare attento Perché sono abituato A giocare a schermo Intero Ok Questo è il puntato Di pausa Potete sempre Mettere in pausa Il gioco In qualsiasi momento Voi vogliate E Invece Questo qua È quello più importante Vi permetterà Di Fare diverse cose Qui Riprendi partita Riprendi la partita La guida di sporesi Le impostazioni Poi Vi permetterà Delle cose più importanti Che sono Salvare Tornare al menu Principale E uscire Da spore Dal gioco Proprio Allora Iniziamo Per muoversi Dovrete Usare O i tasti freccia OAS VD Oppure Cliccare col mouse Allora Per i tasti freccia OAS VD Per me Non c'è differenza Però Cioè Cliccando col mouse Si Probabilmente Alcuni di voi Non era più utile Però Per le fasi successive Sarà molto utile Imparare a usare I tasti freccietta Insieme Al mouse Per usare le cose Allora Intanto Qui mi dice Questi sono gli obiettivi Il primo obiettivo Come Carnivoro È Mangiare Ora All'inizio Li troverete Per tutto il gioco Siamo da età facile Invece Invece In modalità difficile Troverete solo all'inizio I pezzi di carne A giro Allora Sì Ora Manderò la mia Ok Scusate È un po' Sciolta La creatura Sì Non so come dirlo Sì Lo potete vedere Anche voi che è abbastanza Si muove abbastanza Strano Cercherò Ecco Guardate Bisogna prenderne Cinque per avanzare Allora Come potete vedere Si è mosso questo Questo qui in basso È la barra Dell'evoluzione Una volta arrivati In fondo Alla barra Che si presenterà Per ogni fase Si potrà Piggiando questo tasto Anche se Ora è soltanto La storia Passare Alla fase Successiva Ogni volta Che si mangia Si acquisiscono Nella fase creatura Punti DNA Scusate Ho fatto occasione Nella fase cellula Punti DNA Si avanzerà Nella barra E In più Si Ogni Tot mangiare In questo caso Cinque Si evolverà Nel senso Si diventerà Più grandi E In ambiente circostante Anche se diventerà Più grande Ora Per iniziare Vorrei fare Non vorrei Ecco Qua Ho trovato Il minno Allora Il minno Ve lo faccio vedere In sporopedia Dato che Ecco Se mi riesci a ucciderlo Intanto Ok Vai Tre pezzi di mangiare Mi serviranno Proprio quelli giusti Che mi servono Per evolvere Allora In sporopedia Come potete vedere C'è il minno Che il minno Praticamente Questa è la bocca D'erbivoro Intanto Non fa nulla Non è molto veloce Ha le stesse Nostre parti Quindi Uccidendono Non ci darà nulla Perché Perché se noi Come vedremo Prossimamente Uccideremo Una creatura Che ha Cosi diverse Da noi Cioè nel senso Parti diverse Potremo Raccogliere Appunto Queste parti E aggiungercele Poi potremo Anche trovarle In pezzi di meteorite Ma è un'altra cosa Lasciamo stare Ora mangio Così posso Mostrarvi Ecco Come potete vedere Se è ingrandito tutto Ora troveremo Diverse cose Troveremo Un carnivoro E un erbivoro Per cominciare Questo mi ha già selezionato Allora andiamo direttamente qui Allora il carnivoro È un carnivoro normale Vi cercherà di mangiare Quindi O lo mangiate primo State attenti Poi c'è il poke Che è un erbivoro Ora come potete vedere Il poke Quello che dicevo prima Ha Una parte in più Che sono questi spuntoni Allora Se siete carnivori Vi aiuteranno Se siete erbivori Saranno quasi indispensabili Perché saranno La vostra prima arma Allora È importante Sono importanti Questi spuntoni E per prenderli Dovrete O uccidere l'animale O aspettare un po' Ma solo per questa volta Allora Io vado subito A cacciarlo Vediamo se mi riesce Ahia Eccomo ho fatto male Scusate ma Se faccio un po' Male Ma perché Registro e registrando Non mi lagga Ok Mangia E mangia Ok Ora Ok Vi faccio vedere Due cose Cosa numero uno Come potete vedere C'è il chomper Allora Come mai Questo Questa creatura È così grande Perché Poi diventerà Come noi O anche più piccolo Come potete vedere Tipo il minno Che prima era grande Quanto noi Ora è diventato più piccolo Ecco E perché Questo gioco Tiene in considerazione Anche di questo Quindi le creature Che dopo Saranno normali Per ora sono gigantesche State molto attenti A queste creature grandi Perché vi uccideranno Facilmente Allora Quando vorrete Cambiarvi Come appunto vi ho detto Che è la cosa più principale Di Spore Basta era usare questo Che farà Che metterà delle ondine Dovrete seguire Le altre ondine Che vi porteranno Da un'altra creatura Della vostra stessa specie Potete appunto riprodurre Nella riproduzione Ecco Potete cambiare le parti Dell'animale Ora scusate Se mi ci mette tanto A caricare Ma ve l'ho detto È perché È perché sto registrando Allora il tempo È quasi finito Sì Il timer mi dice Che mancano i 10 secondi Ora lo stopperò subito E farò La creatura di Spore E una volta fatta Stopperò il video E ne caricherò un altro Ok va bene Ok allora Muoviamoci perché Non c'è tempo da perdere Allora Prima cosa Vi faccio vedere Questa è la spina Dorsale E potrà essere modificata Con la rotellina del mouse Potete ingrandire O rimpicciolire Appunto le parti Allora qui Vendiamola un po' più uniforme Intanto Poi Più Piccola Verso la coda Grandita un po' di più Qui Più piccolini Poi potrete cambiare Tutte le parti Allora tipo Io non voglio questi occhi Voglio cambiare gli occhi Già Togliendo E mettendo le parti Si userà lo stesso Gli stessi soldi Quindi se io faccio così Le metto Poi lo tolgo Avrò comunque Gli stessi punti DNA Allora Metto così perché Sembra un po' più cattivo Gli occhi questi La bocca è quella Le nuove parti Che abbiamo sbloccato Adesso è la culeo Allora la culeo Ha una particolarità Che Non tutti sanno Che può essere messo Sia Allato Sia al posto Della bocca Ma Non va usato Non va fatto quasi mai Sia così Messi davanti Se preferite farlo così Lo fate così Solo che io Vorrei ecco farlo così In modo che Ora lo ingrandisco un po' Ingrandisco anche qui In modo che Questo lo impicciorisco un po' E metto un po' Ok In modo che Attacco un po' più di lato E Tutto il cibo Mi riesce comunque Andare in bocca Allora Questa Sarà la creatura Che Cioè non è che sarà Sempre così Ma per ora userò questa Guardiamo anche la coda Vai Ora Possiamo anche cambiare il colore Allora per cambiare il colore Potremmo Scegliere intanto Che tipo di colorazione Avrà Tipo così Così E oltre a scegliere il tipo di colorazione Potremmo scegliere anche il colore Tipo se io la voglio fatigrata Però non la voglio arancione Aspettate un secondo Ok Non la voglio arancione La posso mettere anche blu E mi verrà Striata ma blu Poi Se tenete premuto al colore Potrete scegliere anche la tonalità Ora noi Ora non so cosa mettere Vediamo Facciamo così direttamente Viene bellino Arancione Sì però così non è tanto bella Proviamo rossa No Gialla Vai Gialla Strisce Arancione Oppure blu Che bellina Che azzurra Vai azzurra Perfetto Sarà azzurra Scelto così Scusate Scusate un secondo Ok Allora Ora metto il nome Si potrà scegliere Si dovrà mettere sempre un nome Nome Mettiamo Ho dato come esso Fulcro spore Al pianeta La chiamerò Non lo so Vediamo un po' Fulcro spore Scusate Scusate per Cioè se ci metto così tanto A decidere il nome Solo che È un po' Impegnativo Cioè non è impegnativo Sono io che sono Piera Non ci ho pensato Vediamo un po' Posso mettere Ok Un nome un po' Banale Ma Penso proprio Che di mettere Ok Genius Dato che È Diciamo Azzurra E mi dà più Abbastanza l'effetto Del fulmine Ok Genius E Electricor Scusate Electricor Poi potrete mettere Anche la descrizione E le etichette Io non le metto Per questione di tempo Allora Una volta fatto tutto questo La vostra creatura Sarà pronta E Potrete Potremmo Continuare a giocare Ma Continueremo Nella prossima parte Ok Allora Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace So Sarà rufiano Ma Vi chiedo Se potete Lasciare un mi piace Iscrivetevi Se vi va E Ci vediamo appunto Nel prossimo video